Il treno regionale di Trenitalia, provvedente da Piove del Sano, è diretto a Venezia, Santa Lucia, alle ore 12 e 28, è arrivato a Piove del Trenici. Attenzione, allontanarsi dalla Piove del Sano, viene in tutte le stazioni. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. La Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. Non è arrivato a Piove del Sano. Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. Piove del Sano. Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. Piove del Sano, è arrivato a Piove del Sano. 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 Grazie. 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 Grazie.